bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video sono tony rosa nero e sono qui su gta ps3 ovviamente ragazzi non c'ho più la ps3 però giustamente mi sono fatto dare la prestation da un amico mio e mi ha dato pure il suo account ovviamente senza soldi senza niente però ragazzi ora vi mostrerò il come si chiama il glitch per far salvi la t20 qualsiasi auto sportiva anche di quelle classiche ovviamente nel vostro garage è ovviamente gratis ora io ho comprato in questo caso la rebel io già il glitch l'ho fatto e ho preso la t20 però se voi lo volete fare lo stesso e volete riempire il garage pieno di t20 fatelo pure ovviamente ora tutto quello che dobbiamo fare ragazzi andare sul social club scaricarci questa attività che ora vi mostrerò e ve lo metto in descrizione comunque fate start online attività avvia attività preferite e cercate l'attività ovviamente l'amico mio non avendo la gara già c'è la gara qui e si chiama n test ragazzi la facciamo è ovviamente ragazzi appena si avvia la gara voi dovete mettere qui dovete mettere la come si chiama ragazzi tipo di gara dovete mettere questo importante ragazzi non ve lo dimenticate gta da punta a punta ovviamente scegliete la tipo di attività ovviamente sportive super quello che volete io nel mio caso metto super e dovete mettere mezzogiorno e sereno ovviamente le condizioni traffico no livello di sospetto no veicoli personalizzati no tutto no ragazzi insomma partite con la gara anche se siete da soli e fate una volta fatto ragazzi eccoci qua e qua spunta ladder ovviamente scegliete quello che volete nel mio caso al mio amico gli metto la osiris che ovviamente non ce l'ha scegliamo un tipo di colore e ovviamente una volta avviati avviate ragazzi come vedete dietro di me c'è il garage e avviate punto e automaticamente vi spunta la gara dentro il garage una volta fatto ragazzi scendete dalla macchina una volta avviata la gara scendete andate nella macchina salite nella macchina aspettate qualche secondo di più una volta che vi arriva la nel come si chiama a 24 secondi ammaccate triangolo e accelerate subito e una volta fatto vi spawnerete la macchina dietro qui lo vedete una volta fatto ragazzi fate così prendete telefono cancellate l'attività e una volta spawnate in mezzo alla strada avete la osiris eccoci qua e come vedete la macchina automaticamente è qui gratis ragazzi l'abbiamo presa ora tutto quello che dovete fare questa attività ovviamente funziona solo esclusivamente su ps3 ragazzi entrate nel nella cosa nel garage e qua abbiamo le auto come vedete ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate tanti bel like ovviamente e noi ci vediamo a un prossimo video ciao